Il trip in Montesilvano sarà una nuova esperienza estiva, culturale per il comune di Montesilvano, ci saranno dei blog che racconteranno le bellezze della città. Stiamo cercando di rinfrescare un po' anche le modalità di promozione turistica, quindi abbiamo scelto di avvicinarci soprattutto alle fasce d'età più giovani, ma anche a coppie, con figli, un turismo un po' più 2.0 attraverso questa iniziativa. Abbiamo interpellato e ospiteremo numerosi foodblogger, travelblogger, siamo soliti chiamarli influencer il più delle volte, insomma persone che hanno un seguito già targettizzato di numerosi follower. utilizzeremo quindi questo metodo per promuovere non solo chiaramente le bellezze della nostra città, ma anche le tante attività che si possono svolgere sul territorio, anche di conseguenza le attività commerciali che hanno sposato favorevolmente questa iniziativa. Per cui sarà un metodo un po' più alternativo per raggiungere il maggior numero di utenti possibili e far vedere, insomma, non solo sul territorio nazionale, ma anche al di fuori di questo le bellezze del nostro territorio. In che modo cercherete di attirare più turisti possibili tramite i social a Montesilvano? Sì, Trip in Montesilvano è un progetto di promozione turistica che vi agirà sul digitale e sui social attraverso un hashtag dedicato. dei travel blogger si alterneranno a Montesilvano durante l'estate e metteremo in evidenza l'esperienza turistica da fare a Montesilvano e le veicoleremo sul tutto il territorio nazionale attraverso i social. Sono dei travel blogger freschi, diciamo molto smart, con molti follower avremo virtualmente a Montesilvano sono circa 400-500 mila follower, potrete seguire i propri profili e le proprie avventure si chiamano i Trip and Roll, mi prendo e mi porto via, che via GT5 sono tutti dei blogger, dei content creator molto smart che vanno ad abbracciare un ampio target di follower, di clientela, di utenza.